In Sicilia, sul fronte vaccini anti-Covid, così come preannunciato, hanno avuto il via oggi le prenotazioni rivolte al target 5-11 anni. Unico vaccino previsto per questo target specifico è il Comirnaty BioNTech-Pfizer, nella formulazione specifica approvata da AIFA con un dosaggio ridotto a circa un terzo rispetto a quello per gli over 12. Anche per i bambini, prevista la somministrazione di una seconda dose a distanza di tre settimane dalla prima. Mercoledì dovrebbero arrivare le prime 132.000 dosi e già a partire da giovedì 16 dicembre dovrebbero poter partire le somministrazioni. Per quello che concerne la prenotazione sarà possibile effettuarla o collegandosi alla piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o attraverso il sito www.siciliacoronavirus.it. Nell'apposita sezione, relativa al target specifico, qui sarà inoltre possibile scaricare la modulistica necessaria o ancora chiamando il numero verde dedicato 800 00 99 66, attivo da lunedì a domenica dalle 8 alle 20. Per fissare l'appuntamento sarà necessario indicare il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria del bambino che dovrà ricevere il vaccino, oltre ad un recapito cellulare. Il giorno della vaccinazione potrà essere presente anche uno solo dei genitori o tutori legali il quale dovrà dichiarare di aver informato l'altro genitore. Necessario avere con sé la tessera sanitaria del bambino che dovrà ricevere il vaccino. Così come precisato dal Ministero della Salute, la vaccinazione dei bambini è volontaria e non è obbligatorio il Super Green Pass per accedere a determinati luoghi e attività in quanto i bambini sotto i 12 anni sono esenti dal Green Pass.